carissimi amici siamo ancora qui per una nuova avventura di pochissimi minuti nel dialetto nelle tradizioni e nella poesia per ricordare e anche un pochino per tramandare queste pillole di saggezza popolare ai nostri giovani allora la muligat poesia lo sapete ideata da paolo lilli da checco e partiamo anche questa volta ormai siamo a fine marzo e noi però adesso c'è la primavera e speriamo di andare verso una buona stagione sia nella salute che nelle cose che desideriamo il modo di dire della volta precedente che ricordate chi ci segue era o da re o da ruglun e il significato era questo no comunque si comprende da in piedi cioè camminando normalmente oppure anche a fare qualche russolone però era il babbo che stanco dei richiami e vedendo che noi continuavamo a giocare a pallone a fare i nostri giochi e dicevamo sempre venga vengo 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 allora arrivava alla fine un pochino deciso arrivava di corsa riusciva a prenderci per mano e ci strattonava proprio verso casa perché era ora di andare a casa a mangiare o era quasi notte e quindi dice twin twin vieni vieni come non vieni o dare tu da ruglun cioè se viene con le buone e vuol dire dare vuol dire cammini tu con le con la tua andatura e viene a casa normalmente ma se tu non vuoi ancora venire a casa da ruglun quindi io ti prendo ti trascino magari fai anche qualche capriola qualche capitombolo però ti trascino comunque in casa quindi con le buone o con le cattive verrai a casa o da retto o da ruglun eh ma i genitori quella volta erano i genitori eh non so se a volte esageravano però a volte adesso c'è il contrario non ci sono anche se ci sono non ci sono più i genitori ad insegnare la poesia di oggi parla di una visita una visita presso un centro ambulatoriale presso un dottore eccetera ed è una cosa abbastanza scherzosa che come sempre però sotto sotto ha un minimo di verità di saggezza la visita burdel un pertuneb un bel colore perché tu non ve ha fet vuoi da del dottore ah se ti la fe facila ti dis ben le vuoi ra che le un po' che mi sent ben ma prenderli a prenderli a prenderli a post qui vuoi fisic buon, robust e tost dire aventi in dritti ambulatori come anni mi impoio in a 30 purgatori che i centri della salute e l'ospedale più che guarisci usciapa tutti mel se uno fa la fila prima il gaola la retorna a casa anche se il nesco i caola se uno segna per un control amb la vista prima che può servire da un specialista il dventa cic da fatto è sabon l'appuntament l'arriva che si è attestato dove viviamo n'impo prima il nepputo hanno avlomni per fare un dispetto malo se uno se raccomandasse l'infermiera che quando è mania o i balla la dentiera lì la risponde e i cos che puoi fare perché mi provate a stessi manier se mi stessi a vedere che fra un po' di mesi av s'entrimei mesi in paradis capis adesso perché ho prego il signor invece di fare la fila del dottor ormai ho deciso attenzione l'ambulatorio ai vagi quando sta bene e se dovessi andare a finire un tumbo pacienza è vero di che era desto bene è una cosa un pochino scherzosa ma che porta in sé anche qualche meditazione da fare perché purtroppo non è sempre facile per chi ha bisogno andare a trovare assistenza bene allora se siamo ancora tutti qua vi lancio il nuovo modo di dire della prossima settimana voi se vorrete messaggerete al numero che vedrete sopra in pensione e gli amici Paolo e Lilli vi aspettano con le vostre considerazioni allora il modo di dire nuovo è quella trova la vigna quello ha trovato la vigna non c'è ormai più bisogno di ricordare che questi modi di dire nascendo dalla vita semplice di ogni giorno in questo caso dalla campagna dalla vigna erano comprensibilissimi adesso se parlate a un bambino questa trova la vigna assolutamente non sanno da che parte prendere però quella trova la vigna ecco vi dico solo quello ha trovato la vigna perché se ve lo spiego un attimo è facilissimo aspetto un altro appuntamento con voi la prossima settimana ne parliamo più approfonditamente e intanto buona domenica a tutti speriamo bene da aprile che ci porti non solo ogni giorno un barile ma ci porti tanta serenità soprattutto e Namu Liga Poesia anche oggi finisce qua un caro saluto da chi vi parla da Checco da San Marino apsalut